Ben trovati all'appuntamento con dentro il consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del consiglio regionale della Toscana. Ci sono tre temi, uno arriva dalla recente seduta d'aula, gli altri due sono appuntamenti a margine, come sapete noi seguiamo anche spesso le conferenze stampa oppure le presentazioni di vari eventi. Andiamo per ordine e guardiamo il nostro sommario perché il primo argomento ci porta all'interno del consiglio regionale parlando della mancanza del numero legale su una mozione del Partito Democratico che riguarda l'alluvione e Fratelli d'Italia valuta la richiesta di una commissione di indagine. E poi si parla del Corecom Toscana in spot e vince un video sulle dipendenze digitali, un concorso molto interessante e poi per esempio nel mondo è stata inaugurata in consiglio regionale una mostra davvero affascinante. Andiamo quindi per ordine e torniamo a parlare degli eventi allusionali del 2 e il 3 novembre scorsi. Fratelli d'Italia ha valutato la richiesta di istituire una commissione di indagine per far chiarezza sulla gestione dell'emergenza, gli interventi predisposti alla quantificazione dei danni. Questo è quello che ha dichiarato il consigliere Alessandro Capecchi intervenendo nel dibattito del mercoledì 6 dicembre, giorno appunto di seduta Aula sulla mozione in merito alle ineguatezze misure governative finalizzate al sostegno del tessuto economico e sociale interessato dallo stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche. È stata presentata dal PD, il primo firmatario è il capogruppo Vincenzo Ceccarelli e sulla quale al momento della votazione però è mancato il numero legale. Noi non fuggiremo dalla commissione d'inchiesta che se fatta farà sicuramente emergere quello che è stato il grande impegno del Presidente, dell'assessore, della Giunta, della protezione civile, dei volontari, dei tanti giovani che hanno partecipato dopo l'alluvione per cercare di soccorrere i territori, le famiglie, le imprese che sono state colpite appunto da questa emergenza. Non faremo come ha fatto questa sera il Centrodestra di fronte ad una nostra mozione che chiedeva e chiede un forte impegno al Presidente della Giunta nei confronti del Governo affinché dopo tutti gli interventi, le visite che sono state fatte e un po' di passerelle si dia effettivamente seguito a stanziare le risorse che sono necessarie per soccorrere le popolazioni e soprattutto per far ripartire le imprese perché stiamo parlando di quello che è il polo produttivo più importante della Toscana. Dopo i primi 5 milioni stanziati dal Governo non è seguito ancora nessun intervento e anche la richiesta di proroga di quelli che sono gli appuntamenti fiscali e contributivi è stata rinviata solo di alcuni giorni fino al 20 di dicembre e quindi noi chiediamo invece che ci sia un impegno serio, un impegno che dopo le parole vede seguire i fatti e questo lo vogliamo anche dal Governo regionale perché il Presidente ha presentato nella terza variazione bilancio pochi giorni fa un pacchetto di circa 50 milioni di interventi e tra questi il prossimo bilancio che andremo ad approvare nei prossimi giorni conterrà anche alcuni milioni per quanto riguarda i ristori alle famiglie e per interventi di cui c'è bisogno. Quindi la Regione fa la sua parte ma anche il Governo deve fare la sua e noi non crediamo come dire di provocare nessuna lesa maestà nelle chiedere risorse che sono urgenti per la popolazione e per i territori che sono stati colpiti. Oggi il Partito Democratico ha portato in aula un atto per chiedere 500 milioni di euro al Governo nazionale sulla base del nulla, sulla base di una valutazione che hanno fatto alcuni parlamentari del Partito Democratico. Esiste un atto che si chiama Relazione del Commissario che Eugenio Giani avrebbe dovuto fare a quello che lui ha raccontato agli alluvionati toscani entro il 2 di dicembre. Il 2 dicembre alle 9 e 10 di mattina abbiamo depositato un accesso agli atti per avere questa relazione che avrebbe dovuto quantificare i danni. Noi siamo disponibili, eravamo disponibili a fronte di questa relazione a sottoscrivere un'impegnativa di tutto il Consiglio regionale affinché il Governo immettesse immediatamente le risorse necessarie. La relazione non c'è. Il Presidente Giani non l'ha ancora fatta. Ora pare che abbia individuato la scadenza di 30 giorni all'11 di dicembre, benissimo, il prossimo Consiglio sarà il 13, quindi avremo, speriamo, questa relazione. Vediamo quanti sono i danni e vediamo cosa possiamo fare, cosa chiedere al Governo nazionale. La cosa buffa è che a noi ci veniva chiesta responsabilità e noi l'abbiamo avuta. Da parte dei Fratelli d'Italia non c'è stata una parola fuori luogo nei giorni dell'alluvione. Noi eravamo accanto a Eugenio Giani, a Moni Amonni, agli alluvionati toscani senza fare una riga di polemica. Oggi si porta in aula una mozione, ci viene detto ma noi non abbiamo chiesto dei soldi al Governo, anche se poi negli interventi hanno parlato di 500 milioni. Noi non abbiamo chiesto dei soldi al Governo, ma il titolo della mozione è per superare l'inadeguatezza delle risorse stanziate dal Governo. Cioè non sanno ancora quanti soldi metterà il Governo, perché non hanno fatto la relazione, ma sanno che i soldi che metterà il Governo saranno inadeguati. Questo significa strumentalizzare, fare politica sulla pelle degli alluvionati. E allora fine. Finisce il buonsenso, finisce la disponibilità, finisce la capacità e la volontà di lavorare tutti insieme in un'unica direzione. Domani mattina le opposizioni presentano la richiesta di commissione d'inchiesta, la faremo senza la maggioranza, evidentemente non ci stanno a questa collaborazione. Preferiscono fare politica. Va benissimo. Nelle nostre more esiste quella di poter istituire una commissione d'inchiesta. Domani mattina l'opposizione presenterà la richiesta di commissione d'inchiesta su come è stata gestita l'emergenza dell'uvione in Toscana. E cambiamo decisamente argomento. Il titolo è offline della 21enne di Cortona Chiararossi, il video vincitore della decima edizione del premio Toscana in spot 2023. in dipendenze digitali che è promosso dal Core come il Comitato regionale per le comunicazioni. È dedicato quest'anno proprio al tema del contrasto alle dipendenze dalla rete e dall'universo digitale. Le finalità del concorso sono quelle di consentire in particolare alle nuove generazioni di esprimere attraverso un linguaggio audiovisivo un messaggio sui pericoli delle varie dipendenze. Brian Vannacci, 30 anni di Prato, è vincitore invece del secondo premio con il video Hai controllato lo smartphone. E poi Matteo Daddi, 35 anni di Livorno, è il terzo gratificato con il video Vivi fuori dagli schemi. Ricordiamo che i migliori tre spot audiovisivi si sono aggiudicati un monte premio da 10.000 euro, 5.000 al vincitore e 3.000 al secondo classificato e 2.000 al terzo. È giunto quest'anno al decima edizione questo premio, questo riconoscimento di Toscana è un momento importante perché appunto è una valorizzazione di un lavoro ormai decennale. Anche quest'anno sono arrivati tanti video un po' da tutta la Toscana, soprattutto di ragazzi e ragazzi che appunto si sono cimentati su questo argomento che avevamo messo in evidenza che era quello appunto delle indipendenze digitali. In questo senso per noi è un tema centrale per quanto riguarda il Corecom perché il tema di sensibilizzare le nuove generazioni non solo su questo tema, su questi strumenti, su queste competenze è un elemento importante di valore e di mission generale del Corecom. Ho presentato uno spot che appunto riguarda il tema delle indipendenze digitali e con appunto la mia attrice abbiamo realizzato questo spot dove lei praticamente si trova appunto tutti i giorni a casa che sta con il telefono e a un certo punto improvvisamente si ritrova in un luogo totalmente desolato e diciamo che appunto il messaggio è quello di guardarsi intorno ed evitare di stare sempre al telefono perché appunto poi dopo ci perdiamo quello che succede intorno a noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo spot racconta esattamente, cioè vuole sensibilizzare innanzitutto la diciamo dipendenza anche tossica diciamo dagli smartphone ma in generale anche dai monitor, dagli schermi digitali di come questi schermi catturino oggigiorno sempre la nostra attenzione e non ne possiamo proprio fare a meno soprattutto appunto dagli smartphone, è una cosa che colpisce soprattutto i giovani ma comunque anche tutti insomma senza fare distinzioni di età e quindi di come essendo appunto dipendenti dal guardare ogni qualvolta uno smartphone ci perdiamo quello che succede intorno ecco quindi stiamo troppo come dire connessi diciamo su uno schermo ma non alla realtà ecco quindi il video voleva comunicare in sintesi questo aspetto, questa tematica fondamentale. Grazie a tutti. Una metafora diciamo della vita digitale raccontata tramite le immagini prese da un videogioco in particolare riferimento a un videogioco degli anni 80 famoso pacman e appunto c'è questa metafora dove il videogioco rappresenta la vita digitale con i social, la volontà di raccattare follower, like eccetera e che però tutto questo nasconde delle insidie e può portare a delle dipendenze, dei disturbi fisici e psichici. bella la sensazione di vincere ma rimanere intrappolati è un attimo. Questa iniziativa che manda e vuole mandare un messaggio forte evitiamo di diventare un dipendente dalle nuove tecnologie, indipendenze digitali viste con gli occhi delle ragazze e dei ragazzi più giovani. Questo messaggio è un messaggio forte che vuole mandare tutta l'assemblea legislativa. Le tecnologie sono importanti, svolgono un luogo fondamentale nel cambiamento delle nostre comunità ma vanno gestite, vanno guidate, vanno indirizzate. spesso ognuno di noi non riesce a vedere da quanta bellezza è circondato perché passa il suo tempo con la testa china sul cellulare e invece dobbiamo mandare un messaggio differente. Cercate di vivere prendendovi tutta la bellezza del mondo in grado di portarvi. Nella bellezza c'è anche la possibilità di navigare liberi e conoscere il mondo ma non fatela diventare una dipendenza perché la linea di demarcazione è sottile e solo la cultura, una cultura che può partire dalle scuole, può insegnare e può indirizzare specialmente i più giovani ad andare in una direzione differente da quella che purtroppo si sta prendendo in questo tempo. Ed è stata inaugurata negli spazi del Consiglio regionale della Toscana la mostra di Persepi messa in scena l'associazione culturale Natale nel mondo di San Giovanni Valdarno che da 40 anni colleziona delle natività provenienti da ogni parte del globo. Un appuntamento importante perché Natale nel mondo aderito nel 2021 all'associazione nazionale Città dei Presepi. La mostra fa parte dal 2015 proprio del circuito nazionale Terre dei Presepi. Il modo per raccontare la nostra tradizione, il Natale è un momento unico, è un momento in cui in tutto il mondo si festeggia la nascita di una nuova vita e attraverso queste opere perché sono vere e proprie opere d'arte noi vogliamo raccontare il Natale nel mondo e mandare un messaggio, un messaggio di speranza, un messaggio di pace. Qualche mese fa ormai sono stato a visitare i circa 800 presepi a San Giovanni Valdarno che rendono stupenda, unico, in un viaggio in cui si possono conoscere usi, storie e tradizioni di tutto il mondo. Grazie davvero a chi ha permesso tutto questo perché oggi essere qui e vedere quanta bellezza c'è mi riempie il cuore. I presepi che abbiamo qui portato alla regione sono 22 e vengono da molte parti del mondo, Peru, Corea del Sud, Turchia, Lussemburgo, un po' da tutte le parti del mondo. La cosa che ha affascinato noi nell'iniziare la collezione è proprio il vedere come venga sviluppato lo stesso tema attraverso gli usi, le tradizioni e le culture di popolazioni diverse. Da una piccola cosa che era una collezione privata negli ultimi anni arriva fino alla regione e è una ricchezza per San Giovanni perché la passione di queste due persone, questa associazione natale nel mondo che hanno raccolto 800 presepi di tutto il mondo diventa un simbolo di pace, soprattutto un messaggio di pace, ma è anche un messaggio culturale e anche un aspetto di attenzione ai particolari e ai dettagli di come si fanno le cose. Questa loro passione parte dall'attenzione alle piccole cose e l'attenzione non a quello che è superficialità, ma all'attenzione al dettaglio. Loro sono partiti da una mostra che tutti gli anni viene fatta a San Giovanni Valdarno e piano piano le persone che vengono a vederla hanno chiesto ma possiamo anche noi avere in altri paesi, da altre parti questa rappresentazione perché è una rappresentazione del Natale fatta di tanti materiali, dai materiali più poveri ci sono fatti in foglie di bambù fino a argento, materiali preziosi che vengono da tutto il mondo e quindi è un valorizzare e portare il valore dell'artigianato, dell'arte, dell'attenzione alle piccole cose un po' nel mondo. Quindi partiamo da San Giovanni, ma loro oggi espongono in venti città e quindi è per noi un orgoglio rappresentare quello che è, vogliamo dire, un artigianato, ma non saprei come definirlo perché è una passione che parte da San Giovanni e che viene portata, oggi arriva qua in consiglio regionale, sono in provincia, quindi che viene portata un po' in tutta la Toscana. E altra cosa importantissima che vorrei evidenziare è che questa loro mostra viene mostrata a tutti i bambini, già da ieri le scuole vanno e i bambini, dall'alimentare ma anche delle medie, quindi quelli più grandi, hanno possibilità di apprezzare il dettaglio in un momento in cui tutto è passaggio, è immagine, tutto si brucia. Qui invece c'è l'attenzione alle cose, ai dettagli e il vedere come lo stesso aspetto che è la natività, che quest'anno con tutto quello che sta succedendo a Betlemme ha un significato particolare, può essere rappresentato da popoli diversi di tutto il mondo in modalità completamente diverse, ma tutte che riportano a un messaggio di pace, di serenità e di attenzione ai particolari. Quindi ecco, è importante anche perché questa loro attività fa in modo che le nuove generazioni vengano a vedere quella che è l'attenzione al particolare, quindi la cura a mantenere le cose nel tempo e a valorizzarle, quindi lasciarle alle generazioni successive. E per questo nostro appuntamento è tutto, vi ricordo per qualsiasi aggiornamento della lucidazione c'è il sito www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra sette giorni dentro il Consiglio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!